I genitori che accompagnano questi bambini sono qui per farti festa, non potevano mancare, la loro voce è una voce di gioia, una voce di gioia e una voce di grazie e nella loro semplicità lo vogliono esprimere a tutta la comunità, attenzione bene. Grazie, buona grazie, grazie, cantiamo grazie, grazie, sempre grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie, 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 sembra è grazie, grazie.